Sailing ha diventato più ampiamente popolare nei nostri luoghi. I marini moderni hanno molte tecnologie sofisticate e semplici di usare a disposizione e a volte underestimano i pericoli che ancora existono nel luogo. L'equipamento elettronico non è sufficiente. Sailing ha diventato più facile, ma è ancora più pericoloso. Se vuoi aumentare la vostra sicurezza nel luogo, devi sapere molto bene i vostri strumenti di navigazione e essere aware dei loro limiti, e anche dei loro potenziali. Il più importante tool per i marini è la documentazione nautica, cioè, delle charte nautiche e delle pubblicazioni nautiche. Inoltre, la documentazione nautica deve essere corretto interpretata e usata. Qui ci sono alcuni suggerimenti. Prima di salire in un certo area, devi assicurare che hai suon board i rilevanti nautiche. Devi assicurare che hai la prossima edizione delle charte apprezzate. potresti controllare la charte edizione qui, e potresti controllare se è la prossima edizione da guardarla nel catalogo di documentazione nautica o nella rellevanta Annex delle notizie per i marini. L'edizione italiana delle pubblicazioni può essere downloadata free of charge dal sito dell'Istituto Edrografico della Marina. Le charte nautiche sono le charte, in modo che sono in progresso costante e devono essere regolamente aggiornati. Puoi aggiornare le charte usando le notizie per i marini, che puoi downloadare gratuito dal nostro sito. Se vuoi assicurare che il tuo charte è update, devi assicurare questo numero, il bottone a destino, che ti mostrerà l'anno del latest update e i dettagli della valutazione rilevanta delle notizie per i marini. I nodi di caution sono anche importanti. always check the source diagram. The source diagram will tell you when the surveys were carried out in the areas represented in the chart. It's important to know the date of the surveys because from it we can infer what sounding method was used to obtain that data. Lead line, single beam echo sounder, multi beam echo sounder. Nautical charts are meant to represent reality to a certain degree. they cannot show every single detail. This is why we must have a variety of charts for the same area in different scales. The larger the scale, the smaller the area represented. Consequently, large scale charts show areas in greater details. The larger the figure indicating the proportion, the smaller the scale of the chart. For instance, a chart with a scale of 1-100,000 is on a smaller scale than one whose scale is 1-5,000. In certain areas, mainly along the cost, it's advisable to use the largest scale chart possible in order to have more details. Nautical charts must be used together with Saving Direction and all the other relevant nautical publications. Saving Direction provide further information in addition to the data we can find on the charts. For instance, they show us the coastline as we can see it from the sea. We have already mentioned the notices to Mariner's. Published for nightly, the notices to Mariner's bulletin list of the relevant updates reported to the Istituto Hedrografico della Marina by local sea authorities and by mariners, who are one of the main sources of information and greatly contribute to the safety of all seafarers. Mariners should always consider potential hazards at sea, especially near the coast. If you want to be safe at sea, study the appropriate nautical documentation. be careful and never stop learning the tricks and tips to be a scaleful sailor. Remember, your life is in your hands.